E' un buon momento per vendere le proprie carte nel TCG di One Piece? L'arrivo del The Best farà abbassare il prezzo delle prime edizioni? E quale sarà il futuro del GCC a tema piratesco ora che le carte saranno disponibili ai più? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Vendo le mie carte perché stanno salendo di prezzo. Questa è una frase che mi viene detta spesso nei messaggi privati di Instagram ed ogni volta resto a pensare sul da farsi. Scoraggio a chi mi ha rivolto questa affermazione o incoraggio alla vendita? Alla fine la risposta è sempre la stessa ma la scopriremo fra poco. In più ci si è messo in mezzo anche il The Best che di certo non ha fatto bene nel mercato. Ne sanno qualcosa le manga ad esempio che dopo l'annuncio del reprint hanno visto un calo fisionomico dei prezzi dovuto per lo più alla paura e alle notizie fuorvianti piuttosto che ad un'analisi accurata che induca a pensare su alcuni aspetti fondamentali da tenere bene a mente. Sia chiaro con questo contenuto non voglio attaccare nessuno e se qualcuno si sentirà colpito mi dispiace ma non è mia intenzione. Semplicemente darò la mia visione su quello che accadrà nell'avvenire e come attraverso dei semplici ricorsi storici si potrà imparare dal passato per prevedere in qualche modo il futuro. Vuoi dare il via alla tua avventura come collezionista nello sconfinato universo dei TCG ma non sai da dove iniziare? Colleziono da Zero è la soluzione che fa per te. Con questa guida dettagliata imparerai non solo a conoscere le basi di questo mondo ma anche le strategie avanzate per massimizzare il valore della tua raccolta. Che tu sia le prime armi o un amatore questo libro sarà la bussola che ti guiderà nello sconfinato universo dei GCC. In Colleziono da Zero troverai consigli utili per muovere i primi passi in questo mondo, una panoramica sulle tecniche del collezionismo, come reperire intere collezioni attraverso strategie mirate senza spendere un patrimonio anche se non hai esperienza. Acquista ora la tua copia personale cliccando il link che ti ho lasciato in descrizione o direttamente su Amazon digitando nella barra di ricerca Colleziono da Zero. Grazie infinite per il supporto e buona lettura. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme perché potrà essere sbagliato vendere le proprie carte nel TCG di One Piece in vista del The Best. Andiamo a dargli un'occhiata. Vendo o no? Partiamo dal primo punto ovvero la differenza di stampa. Per ogni collezionista anche un minimo cambio di gradazione del colore rappresenta un valido modo per catalogare una carta in un set piuttosto che in un altro. Sto esagerando ovviamente ma se vi spostate di un passo ecco che si entra nel mondo degli errori di stampa. Calcolate che la presenza di un'ombra o meno dietro al riquadro di un Pokémon può far variare il valore di quella stessa carta di diverse decine di migliaia di dollari. Stessa cosa per le errata e le miscut che rappresentano per ogni appassionato un'ottima occasione per avere nella propria raccolta quella gemma rara che nel lungo termine diverrà sempre più rara aumentando di conseguenza il suo valore per il principio di scarsità. Che cos'è il principio di scarsità Arconte? Quando un prodotto è molto ricercato ma lo detengono poche persone saranno questi ultimi a fare il prezzo assegnando un valore più o meno alto a quell'articolo. Quindi ad una domanda alta che vede però un'offerta bassa ne conseguirà un aumento di prezzo. Vedasi i leader del super pre-release che resi disponibili unicamente nell'occasione del lancio anticipato del gioco hanno visto un aumento di prezzo esponenziale e più ci allontaniamo dalla data del rilascio e più aumentano di valore. Tenete a mente che circa un anno fa il Luffy leader si aggirava attorno agli 80 euro. Ora di media a 30 giorni Fonte Car Market si attesta sui 140. Altro elemento da tenere in seria considerazione è come nel caso del The Best la presenza di stampiglie varie riportate sulla carta. Le manga ristampate infatti avranno delle differenze rispetto alle loro controparti di prima edizione e ciò se in un primo momento poteva generare panico in futuro vedrà due settori ben distinti tra loro e con prezzi del tutto differenti. Infatti com'è per ogni ristampa all'inizio il prezzo nell'insieme vedrà un crollo dovuto soprattutto ai panic seller ovvero tutti quei venditori che alla notizia ehi vengono ristampate le manga vendono senza aspettare ulteriori notizie a riguardo. Infatti dopo il comunicato rilasciato dalla casa madre sulla presenza di alcune differenze che avrebbero distinto la manga di Luffy Gear 5 OP05 ad esempio da quella del PRB01 i valori di media si sono riassestati tornando attorno ai 3000 euro. E qui c'è un altro punto fondamentale da tenere in considerazione, il valore nel lungo periodo. Esempio pratico, di carte interessanti nel The Best ce ne saranno molte, tante e tutte a loro modo daranno ad ogni appassionato la possibilità di avvicinarsi alle dinamiche del gioco abbassando le barriere di accesso. Ricordate il principio di scarsità? Bene, in questo caso si otterrà un contro trend ovvero l'offerta sarà minore della domanda con conseguente abbassamento dei prezzi. Eh? Quindi anche le manga, Arconte. No, per loro il gioco seguirà altre regole, perché esse rappresentano l'unicità. Quella carta che, quando la trovi urli e scalpiti, te ne esci con i zoom e festeggi sapendo che tra le mani hai un valore che supera, nella maggior parte delle volte, centinaia di euro. E quindi a differenza di un mioc costo 9 di OP01 che una volta che lo hai trovato dici, ah ok ottimo, o un borsalino blocker che ritrovandotelo tra le mani alzi il pugno in cielo in segno di giubilo, per un godpack sfido chiunque a restare impassibile. È il valore insito che cambia e questo porterà a dare un ulteriore valore insito anche alle manga di OP01, 2, 3 eccetera e quelle presenti nel The Best. Stessa carta, salto dalla sedia una volta che la sbusto, ma in fase di rivendita il valore sarà differente. Farà ridere lo stesso il ricavato, sia chiaro, ma sarà inevitabilmente diverso, perché conoscendo i collezionisti la prima domanda che faranno una volta che la ristampa arriverà anche qui in occidente sarà, alla stampiglia o è di prima? E quindi signori, la risposta alla domanda principale, ovvero se vendere o no una volta visto un aumento di valore è, decidete voi, sembra abbastanza sbrigativa come risposta, lo so, ma vorrei allegare a tale risposta una serie di quesiti. Se stai per vendere una qualsiasi carta, fatti queste domande. Gioco quel colore, ho intenzione di giocarlo o ho lo scopo di iniziare a giocare? Se vendo la carta me ne pentirò? Sono davvero sicuro di volerla vendere? E se la vendo e ricavato verrà reinvestito? E se sì, in cosa? Conviene quindi concludere una vendita per portare avanti altri discorsi? Vi parlo di un'esperienza personale che è nota a tutti coloro che mi seguono da un po' di tempo. Quando ho sbustato Ace Manga avevo ancora bisogno di alcuni accessori per completare il set del nuovo studio, questo che vedete alle mie spalle. Quando mi è stata fatta un'offerta immediatamente dopo averla mostrata in live, lì per lì ho tentennato, infatti in diretta ho affermato che non sapevo se avrei venduto la carta o meno. Poi ho iniziato a pormi le domande che vi ho illustrato poco fa e le risposte sono state. Sì, sono un giocatore, gioco in rosso e ho già il 4x delle versioni normal di questa carta. No, non credo me ne pentirò, sì sono sicuro, sì verrà reinvestito nell'acquisto di attrezzatura per il canale. Se voglio far crescere il progetto potenziando nel breve periodo dei settori dove sono attualmente carente, sì, mi conviene assolutamente venderla, soprattutto ora che ho un acquirente certo e del quale mi fido. E non ho provato alcun rimorso nel darla via, anche oggi che so che il prezzo è aumentato toccando quota superiore al migliaio. Fa niente, fa parte del gioco. E la Signed invece Arconte? Quella al momento non verrà ristampata e sono sicuro che se l'avete a disposizione, tenerla in cassaforte ancora per un periodo vi giocherà a favore. Tenete sempre sott'occhio il mercato e regolatevi di conseguenza. Quindi vendo? Non vendo? Attraverso le domande che vi ho posto potrete di sicuro agevolarvi la strada nel trovare una risposta e soprattutto non farvi prendere dal panico. Ricordate sempre che nel mondo della compravendita dei TCG, come nel mercato azionario e in ogni altro campo dove c'è uno scambio di beni, la mole di informazioni che apprenderete vi porteranno a concludere un buon affare invece che uscirne in perdita. Se poi siete alla ricerca di una guida, in descrizione sarà disponibile Colleziono da Zero, che sono certo vi fornirà degli spunti utili per ponderare nel migliore dei modi ogni scelta che farete. E voi, come avete preso la notizia della presenza delle manga in PRB01? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video.